La Normec nasce nel 1963 a Torino, tradizionale centro della meccanica italiana, inserendosi fin da subito nel settore della meccanica di precisione. Dopo pochi anni la Normec individuò un settore specifico su cui concentrarsi tra i vari settori della meccanica, quello degli equipaggiamenti per autocisterne per il trasporto prodotti petroliferi, chimici, alimentari e liquidi in genere. Normec ha quindi iniziato a progettare e produrre un proprio prodotto distinguendone marche e qualità, sviluppando nuove tecnologie per la sicurezza del trasporto delle materie pericolose. La sede dell'azienda e lo stabilimento di produzione ha sede in Italia, nel cuore del Piemonte produttivo, nel piccolo e laborioso comune di Castagnito, porta di accesso alla rinomata cittadina di Alba. I prodotti della Normec raggiungono ogni parte del mondo. Quasi 50 anni di esperienza in questo settore sono la testimonianza della nostra competenza e la costante attività di ricerca e sviluppo sono la garanzia di un'azienda moderna che segue il mercato con grande attenzione. La Normec ha imparato in questi anni ad ascoltare la clientela per poter dare risposte alle richieste del mercato. La passione e professionalità del team che compone lo staff della Normec sono sempre state la garanzia della continuità di un'azienda sempre rimasta all'avanguardia. La presenza della Normec in quasi tutto il mondo sottolinea la filosofia che più contraddistingue l'azienda stessa. Oltre a vendere su tutto il territorio nazionale, la Normec esporta circa il 90% dei propri prodotti, con l'obiettivo di raggiungere sempre più paesi e soprattutto insediarsi principalmente in quelli emergenti. Con la forte necessità di soddisfare un mercato sempre più globale, continue sono le innovazioni per la serie completa di prodotti nelle linee alluminio ed acciaio inox. Una completa gamma di equipaggiamenti costruiti secondo gli standard N, European Norms, ha superato severe prove di resistenza e tenuta a favore di una maggior sicurezza del prodotto stesso. La ricerca e sviluppo degli ultimi anni ha permesso di raggiungere obiettivi fondamentali per un'azienda del nuovo millennio. La qualità del prodotto, la competitività necessaria per affrontare tutti i mercati, la completezza della gamma per soddisfare ogni esigenza specifica. Grazie mille! Infine la Normec può vantare delle certificazioni di prodotto dagli enti più riconosciuti al mondo, quali Bureau Veritas, TUV Germania, CSI, Istituto Italiano Saldature. L'intero sistema qualità secondo le Unien ISO 9001-2000 è rilasciato dal TUV Italia. Normec. 50 anni di costanza, impegno e passione.